20. Si scopre Che cosa avviene subito dopo la morte fisica? Commento L'essere, che nella vita fisica è uno spirito in esilio, va nel corpo astrale e riprende in parte le proprie facoltà che, a seconda del suo grado di evoluzione, nel corso della incarnazione, si erano ridotte alla carnalità. Il senso dell'udito si libera e si scopre spazio. Il senso della vista si libera e si scopre luce. Il pensiero si libera dalla schiavitù dell'idioma cerebrale e scopre di essere il modo di comunicare delle entità che è privo di parole. Il senso della porta si liberate. Il senso della tua rete